Oggi si fa un passo gigantesco per la semplificazione del fisco. Ovviamente questo non è ancora l'abbassamento di tasse, che pure abbiamo già fatto sia con gli 80 euro che con l'IRAP, ma è un passo molto significativo, potrei dirla così, ordinamentale. La deflazione del contenzioso, gli interpelli, l'agenzia delle entrate e le agenzie fiscali in generale sempre più come consulenti del cittadino e non come controparte del cittadino. Questa è la sintesi.